Bene amici, forse i corrieri sono tra quelle categorie che ci hanno salvato in questi giorni di quarantena e in questo pacco ci sono dentro due telefoni che forse ci salveranno dall'evoluzione ed escalation dei prezzi dovuta a questa tecnologia 5G, sì perché uno è il Find X2 Neo o Neo e l'altro è il Light o Light o Leggero sono due telefoni di Oppo che hanno nella combinazione 5G e prezzo, tra virgolette, contenuto perché siamo a 600, sì ve li spoilerò subito 699 euro per il, maledetto, quanto mi manca il mio taglierino ma il 4 lo recupererò in ufficio dicevo 699 per il Neo e 499 per il Light che comunque ha il processore Snapdragon 765 quindi 765 per entrambi ma andiamo a vederli perché uno è stato dichiarato da Oppo il telefono 5G più leggero e sottile del mondo quindi sono curiosissimo se ho fatto un casino nell'apertura delle scatole ed è questo il 5G Neo sentiamo un attimo, plastichine tolte, c'è la protezione sul display, sì che tolgo immediatamente ah che bello, anche questo adesivo dietro è proprio brutto e ragazzi sapete che è veramente leggero? 177 grammi, 7,7 mm di spessore, soprattutto una fotocamera che guardate, sì sporge poco mi dicevo in Oppo che sono riusciti a ottenere questo spessore contenendo anche il sensore dell'impronta digitale è un nuovo, nuova tecnologia molto più sottile e devo dire che così le prime impressioni sono belle adesso l'abbiamo acceso, vediamo cosa c'è in confezione, il caricabatterie rapido 30 watt poi qua c'è il cavo dati tipo C all'uscita video, quindi una tipo C completa vediamo cosa c'è dentro questa scatolina, sì c'è anche la cover in silicone poi ovviamente la graffetta per togliere, la tengo qua, voglio vedere se è dual sim e se c'è l'espressione di memoria e poi da questa parte il light che già vi dico prendendolo in mano è un filo più pesantuccio anche a lui tolgo la pellicola, anche a lui tolgo l'adesivo dietro, sì più pesantuccio ma non esagerato 8 mm spessore, 180 grammi, anche qua le fotocamere sporgono poco lo accendo perché la prima cosa che salta all'occhio è che qua c'è la goccia qua invece il forno del display è il display che è leggermente più curvato tutti e due AMOLED e niente vi faccio vedere anche i vari lati accensione spegnimento, sotto la tipo C qua dovrebbe essere la tipo C in versione 1 quindi non ha l'uscita video però c'è il jack per le cuffie, qua c'è il volume e da questa parte, non ve l'ho fatto vedere prima, sempre tipo C bella anche la scocca satinatina, accensione spegnimento e da questa parte volume no, qua purtroppo non c'è il jack per le cuffie e infatti nel light ci sono le cuffie con il jack e nel nio ci sono le cuffie con la tipo C anche nel light il caricabatteria è praticamente lo stesso la batteria è la medesima da 4025 mAh non hanno la ricarica wireless vediamo se anche nel light c'è la custodietta penso di sì, sì anche qua c'è la custodietta e mentre si accendono andiamo subito a scoprire il vano e niente ragazzi, mono sim su tutti e due ma qui abbiamo 12 giga di RAM e 256 UFS 2.1 mentre di qua abbiamo 8 giga di memoria RAM con 128 gigabyte UFS anche qua 2.1 le fotocamere anche quelle è un comparto che si differenzia non la principale, 48 megapixel sono entrambi 8 megapixel a grande angolare 2 megapixel bianco e nero e effetto di profondità mentre da questa parte abbiamo la 48, la 13 megapixel 2x ibrido 5x 8 megapixel grande angolare e qua anche una 2 megapixel per il bianco e nero ma adesso li accendo, li installo e poi facciamo due considerazioni sul software entrambi dual band, meno male è difficile scrivere in stereo su due tastiere contemporaneamente però devo dire feed della vibrazione simile su tutti e due non è aptico ma mi sembra abbastanza buono e dopo la configurazione un benvenuto alla ColorOS 7 vabbè facciamo un giro sulla guida introduttiva attivo subito la modalità scura che mi piace molto molto di più metto la luminosità al massimo e vi faccio subito vedere la differenza dei due schermi vi dico prima tutte e due AMOLED, tutte e due Full HD ma qua abbiamo i 90 Hz qua il light si ferma a 60 devo dire, si devo attivare le gesture perché sono molto più comode rispetto ai pulsanti lì sotto che si vede, si vede perché è proprio la differenza di fluidità tra i 60 e i 90 Hz si vede molto di più della differenza di risoluzione ma comunque sono due bei pannelli soprattutto così ha una luminosità elevata devo dire tanta roba vediamo l'interfaccia della fotocamera abbiamo, sì, più o meno le stesse opzioni vabbè, lo proverò anzi, li proverò sicuramente prestissimo e visto che il 5 finalmente potrò riaprire e tornare in ufficio farò un giro per Milano con lui, me lo porterò dietro e vi documenterò un po' com'è questa riapertura molto parziale per ora ma anche le attività e i negozi come anche magari i negozi che sono stati aperti hanno vissuto questo periodo come i negozi che hanno aperto proprio il 4 lo stanno vivendo insomma un po' di reportage utilizzando la sua videocamera perché stabilizza con l'ottico e con l'elettronico insieme insomma lui è studiato molto per essere anche un telefono diciamo per fare video arriveranno sul mercato il 22 di maggio vi ho già detto i prezzi 699, 499 un po' una democratizzazione del 5G anche se è un termine abusato comunque 499 non sono pochissimi ma ripeto sono i telefoni 5G sul mercato che costano meno poi ne arriveranno altri ma loro insomma aprono un po' questo nuovo capitolo e mi pare che chi li preordina diciamo da oggi fino al 22 al 24 maggio magari lascio il link in descrizione perché non mi ricordo tutto ci sia una promo che regala anche cuffie Oppo True Wireless e un speaker bluetooth direi che ci siamo e ci vediamo il 5, 6 non lo so con un esperienziale fatto da questo telefono ho proprio voglia di fare un esperienziale in sicurezza ciao